Buongiorno, oggi vorrei parlare di dipendenza affettiva. Dovete sapere che si può parlare di dipendenza affettiva quando l'amore si trasforma in una ossessione che domina la mente e fa soffrire la persona. Intendiamoci, la dipendenza in una relazione di per sé non è patologica, in particolare durante la fase dell'innamoramento. La dipendenza diventa patologica quando la relazione di coppia è vissuta come condizione unica, indispensabile e necessaria per la propria esistenza. E questo accade quando all'altro viene attribuita un'importanza tale da attribuire se stessi senza ascoltare i propri bisogni. Chi manifesta i sintomi della dipendenza affettiva ha un desiderio di fusione con la persona amata. Quindi vive costantemente nell'ansia di poterla perdere e ha il bisogno di continuere assicurazioni. Di solito il dipendente affettivo ha difficoltà nell'identificare in modo consapevole i propri bisogni, proprio perché vive in funzione dell'altro. I sintomi della dipendenza affettiva non si manifestano necessariamente all'interno di una relazione di coppia, ma possono manifestarsi anche nei confronti di un genitore, di un altro familiare, oppure di una figura amicale, oppure sul posto di lavoro. La dipendenza affettiva è simile alla dipendenza da internet, è simile al gioco d'azzardo patologico, oppure è simile alla dipendenza da sesso, da sport, è simile allo shopping compulsivo e alla dipendenza da lavoro. Tutte queste dipendenze si presentano come un modello disadattivo o problematico della relazione con l'oggetto in questione, che porta ad un'angoscia clinicamente significativa. Perciò i criteri per la dipendenza affettiva sono l'esistenza di una sindrome d'astinenza per l'assenza dell'amato, caratterizzata da un bisogno compulsivo dell'altro. Due, una considerevole quantità di tempo viene speso per la relazione, sia nella realtà che nel pensiero, con una riduzione di importanti attività sociali, professionali o di svago. Tre, persistente desiderio di controllare la relazione. Quattro, ricerca del partner nonostante l'esistenza di problemi creati dalla relazione stessa. Molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata oppure consulenze telefoniche o via mail. per cui se volete richiedermi una consulenza dovete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza, specificando nome e cognome e orari preferiti. Inoltre vi invito a leggere i miei libri che si trovano soltanto su Amazon. Buona giornata.